Hai visto qui che schifo? Eh, guarda che roba. Nota che questa mattina sono passato alle nove. Sì, era già così. Era già così. A dieci alle dieci sono andato dai vigili che li ho avvisati di mandare qualcuno. Sono passato alle undici, era ancora così. Adesso sono le quattro passate. E non si è visto nessuno. Allora, è compito del cittadino tenere pulito perché quando le istituzioni non funzionano, bisogna tenere pulito. Te la senti? Tieni i guanti, metti i guanti. Tu mi avevi assunto come videoreporter. E invece adesso mi tocca pure andare di ramazza. E va bene. Eh, scuola. Bene, bene. Sei tremendo. Ma insomma, io ci sto già tutta la settimana con la scappa in mano. Anche la domenica. Può anche darsi che trovi lavoro adesso, eh. Se me lo dicevi non mi mettevo tanti, eh. Eh, vabbè. Ma non metterti a piedi nudi perché poi... ti fai male, eh. Che ti fai male, eh. Mi sa che non basta una paredza sola. Intanto guarda, là ci sono i cestini e butti dentro. Comunque il più grosso conviene prendere la mano, eh. Fa bene, Watrista. Ha bebe. IlHA Doncs a vedere. Ma habían fatta lettura. Non ho vedilato di sana. Ma ja, ma. Ma, ma pomodiamo, ma orta te c hormones. Ho! Ma hai. Ma tossa me, ma ja, ma tioe'. Ma. Ho, ma, ma, ma. Ma domenica o confini, mi piace. Ero. Medicaproduct irregular привulcola. Ciò見て i sådata.. dammi che vado a vuotare qui se qualcuno inciampa e cade che si rovina guarda te che roba avessi saputo poter portare la spirapolver veramente ci può capire la spirapolver che il porfido ti attiene e si e aspetta che vado a vuotare di nuovo e due fortuna che in macchina ho tutto io ma ecco via ci è stato tracciato Grazie a tutti. Aspetta che c'è ancora più. C'è ancora un po' qui eh. Non puoi entrare su te. Ma quelli grossi. Poi io ho la pelle dura. Cosa dici? C'è ancora un po' lì. Non so, bisogna essere degli idioti. Aspetta un po'. Questi bianchi poi si confondono. Cosa dici? Ma potrebbe già andare bene eh. Vedi ancora qua? C'è qualcosa qui. Ah si, sono proprio trascinati. Sì. Ma poi andiamo in via Cavour eh. Eh. Ma qui siamo già in via Cavour eh. Ok. Allora noi abbiamo fatto. Abbiamo finito. Il dovere dei cittadini. I cittadini. Sì. Dato che paghiamo la tares e che la paghiamo bene. Diciamo allora che ci troviamo anche il il lavoro eh. Infatti. Eh perché oggi è domenica e i vigili che non ci sono. Che non che non ci sono neanche quelli dell'AMIU che devono pulire. Perché poveretti. Eh ma no. Eh vabbè. Vabbè. Adesso perlomeno è un pochettino pulito. Ok. Speriamo in bene va. Ciao. 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 Ciao.